Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale, siamo ancora qui nella nostra fantastica isoletta di Berk insieme ai nostri fantastici Dragozzi che vedete tutti qui belli pronti che stanno in questo momento riposando e stanno aspettando nostri ordini e come vedete tra l'altro abbiamo addirittura 8 ricompense da escattare in questo episodio ho potenziato la salameade, abbiamo il nostro Johan il mercante che ci proporrà altre offerte ovviamente con le rune alle quali noi non ci sottoporremo e non acquisteremo e inoltre ho completato la costruzione di questo edificio qua che vedete è la casa di Mocicoso e inoltre ho potenziato il nostro muscolone e mandato in viaggio tempestosa ho potenziato qualche altro Dragozzi quindi abbiamo in questo episodio tante belle cose da fare io inizierei però trovando l'elmo vichingo anche se in realtà purtroppo ragazzi non ci sarà possibile per giusto qualcuna pergamena di avere l'uovo perché come vedete mancano tre giorni e io ho ancora un bel po' di pergamenti da trovare o meglio di elmi vichinghi per completare la pergamena da trovare detto questo possiamo prendere il pacchetto 6 monete odino che ci portano a 133 tra l'altro un po' di carte per la zuffa giuro ragazzi che prima o poi vediamo in questo episodio se riesco a fare in fretta vi faccio vedere la zuffa perché io sto facendo qualcosa ma mi sto trattenendo apposta per farla vedere a voi e non andare troppo avanti da solo diciamo vediamo che offerte ci propone Johan allora no assolutamente e in realtà questa di 20.000 magari o la mela a 5 rune si potrebbero anche accettare questa l'accettiamo da 5 rune si può fare tanto le abbiamo abbastanza in fretta e questo macchia d'olio qui non so cosa sia sinceramente con tipo inchiostro non lo so tanto comunque penso ci sia tempo se ci sono 4 ore quindi vediamo più tardi se non ci costa cioè se non dobbiamo costruire niente che ci costa troppa legna vediamo di comprarla qui abbiamo potenziato il nostro corno tonante raccogliamo anche un po' di pesce ha tra l'altro doveri giornalieri completati perfetto e abbiamo 7 ah erano 7 allora non 8 ok quindi andiamo alla riscossione delle nostre tasse dell'evento altre 6 monete odino 139 un altro po' di carte della zuffa e poi legna rune rune pesce e un tagliapioggia che se non sbaglio abbiamo già si ce l'abbiamo già quindi non ci serve lo posizioniamo nell'hangar visto che già ce l'abbiamo e dopo di che direi abbiamo un'altra missione completata perfetto dicevo dopo di che direi di andare a riscuotere le altre ricompense abbiamo 250 scintille 10.000 legna perfetto che mi sa che però ne abbiamo un po' troppa altri 250 scintille siamo a 3.000 attenzione ragazzi 30 rune perfetto 500 scintille siamo a 3.006 e un altro pacchetto di carte 6 monete odino vediamo un po' che cosa altro ci arriverà di bello pesce legna rune pesce e rune siamo a 476 come aveva immaginato insomma è finito di già l'evento comunque l'offerta in sconto per il quarto posto in accademia quindi è tornato a 2.500 noi ce ne siamo 500 quindi insomma non stiamo messi male non stiamo messi benissimo però vedo che le rune si fanno veramente abbastanza in fretta quindi 2005 dovremmo farle abbastanza insomma in modo svelto a questo punto direi che possiamo completare appunto qui il potenziamento del nostro muscolone che in teoria è femmina quindi facciamo attenzione ad ora in poi quando lo chiamiamo qui che abbiamo rune ok e vediamo facciamo mascherati per il terzo e mandiamo tempestosa perfetto quindi muscolone io potenzierei ma sì di nuovo ok e quindi poi facciamo che mandiamo a cercare un po' di pesce muscolone qui abbiamo una ricompensa sbloccata altri 250 scintille per un totale di 3.900 se non sbaglio esatto 3.900 quindi nel mercato stagionale siamo arrivati adesso a 27 giorni dalla fine ad un punto in cui potremmo già sbloccare il nostro primo drago che è stella dell'alba cioè quello a cui io sto puntando dall'inizio che ci sblocca 20 milioni e 20 milioni quindi veramente tantissima roba l'ultimo insomma a cui potremmo aspirare sarebbe quello superiore che ci darebbe 20 milioni scusate 22 milioni e 8 di legna e un po meno pesce però insomma dato che non penso che i draghi li usiamo per tutte e due le cose in teoria che sia migliore in una cosa piuttosto che nell'altra ci va anche bene quindi se dovessi riuscire ad arrivare a 8.700 insomma prenderei quello là altrimenti già stiamo tranquilli che il primo lo possiamo prendere adesso la prossima ricompensa 2250 quindi ce ne mancano 130 io ho messo due milita di pesce con gronchio l'ho messo a fare quindi tra poco riscuoteremo a destra un drago tre volte all'accademia allora adesso lo faccio subito e dopodiché riprendiamo ok allora l'addestramento dei draghi l'ho fatto perfetto quindi ci manca soltanto raccogliere 2000 unità di pesce speriamo che l'abbiano già raccolti in realtà 189 ragazzi siamo veramente lontanissimi delle 2000 unità però vabbè lo farò off screen allora perché volevo riuscire a prendere il pacchetto di scaracchio insieme a voi quindi non sarà possibile purtroppo è sdentato cinque volte no vabbè dai le prossime ricompense le prendiamo negli altri episodi allora come missioni abbiamo due missioni completate cioè quella di joan è un piacere fare affari con te cinque rune sai hiccup c'è una bella storiella a proposito di quell'oggetto che abbiamo appena barattato oh come è tardi mi sembra che estrid mi stia chiamando fantastico così potrà sentire anche lei la storia sette stati fa molto più a sud di qui sull'isola di oh povero me eh lo so hai ragione hai ragione nuova missione completata è andata benissimo non ci posso credere altre cinque rune siamo a 506 ragazzi come vedete le rune vanno giù che è un piacere anzi vanno su che è un piacere nuova missione hiccup non puoi sempre piazzare a berk tutti i draghi che salvi da qualche parte devono stare scaracchio cosa dovrei fare stoic mi ha fatto sistemare l'hangar dei draghi vediamo un po sposta l'hangar a sposta nel larga nell'hangar un drago fai crescere un drago che si trova nell'hangar di un livello se ti serve più spazio puoi mandare i draghi nel deposito chiamiamolo così allora mandiamo lo scalderone nel deposito facciamo così e uno l'abbiamo mandato dopo di che facciamo crescere di un livello qui abbiamo un dragoncello facciamo crescere questo qua missione completata stoic ti ha chiesto di fare questo scaracchio per i draghi tuo padre pieno di sorprese e infatti è vero è pieno di sorprese nuova missione hiccup sto compilando una lista che ci aiuti a tracciare e tenere il conto di tutti i draghi grande idea gambi di pesce come posso essere di aiuto mi serve che qualcuno dia un'occhiata a strong calis lo farei io ma beh è pieno di morti sussurranti sembra che gambi di pesce lasci sempre che sia io occuparmi delle morte sussurranti quindi lo mandiamo a cercare due volte visto che ci siamo ed eccolo qui cerca 30 minuti facciamo la borsa gratis ovviamente quindi abbiamo mandato in missione vediamo quest'altro e poi chiudiamo hiccup dove stoic voglio un'udienza ciao sputtacchioso papà in mare a fare un'ispezione dell'isola questione di sicurezza cosa ti serve dia stoic che abbiamo troppo pesce un vero capo risolverebbe il problema buttando via un po di pesce già potrebbe funzionare usa 1600 pesci ci sono sempre due modi per fare le cose il mio modo è quello giusto aspetta forse non era così si infatti dovrebbe essere il modo sbagliato è il mio nel frattempo prima di chiudere abbiamo potenziato la salamea del livello 5 disponibili nuovi edifici adesso i vichinghi maxi sono maxi o meglio al massimo sono 45 possiamo costruire questi edifici qui quindi direi alla grande nuova modalità di gioco difendi berk berk è sotto attacco dal mare in via dei draghi per respingere le fratte di drago e alvin e salvare i draghi difensori nuova modalità di gioco barca di reti la barca di reti consente di barattare ambra grezza con ambra raffinata da usare per acquistare decorazioni e statue benedette del valhalla anzi dal valhalla e migliorare la vita a berk quindi due nuove modalità difendi berk e barca di reti devo dire che ogni volta a nulla non lo darò adesso un vuoto ogni volta che potenziamo la salamea devo dire che abbiamo sempre grandi gioie il prossimo 35 vichinghi livello 4 l'accademia e 5 draghi a livello 24 allora ragazzi direi che per questo video possa essere tutto qui come siamo messi 200 no c'è da aspettare ancora mandiamo i nostri draghi in esplorazione o meglio in raccolta più che esplorazione e quindi facciamo tre legna e il pesce per adesso mandiamo solo questo perché gli altri due ce li abbiamo impegnati a costruiamo visto che ci siamo la casa di moccicoso e pronta adesso per avere zanna curva quindi viaggio costumi e ricompense vai al negozio vediamo quanto ci costa zanna curva 1500 e si può fare non è tantissimo dai vediamo tra l'altro 12 milioni di pesce quindi buonissimo vediamo di arrivarci il prima possibile così sblocchiamo anche il viaggio in realtà quindi tanto meglio e allora ragazzi io direi che per questo episodio possa bastare così siamo andati abbastanza avanti sia con la storia che con i draghi io vi ringrazio ancora per tutto il supporto che lasciate ai video vi ringrazio ancora per aver visto insieme a me questa puntata ci vediamo ad un prossimo video auguro a tutti quanti voi una buona serata e ciao a tutti ragazzi